bellissimo bellissima location il nostro endurage del lapino pinto band è a completa e a completo e siamo arrivati eccoci qua laino bella buonasera come stai laino tutto a posto siamo dovete rimanere collegati perché quello che vedrete oggi è qualcosa di eccezionale questa sì 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 questa piscina che affaccia direttamente sul mare andiamola a vedere un po' il funcione va via ciao ragazzi fate un buon viaggio maria carlo magno buonasera eccolo qua guardate qua che panorama mozza fiato chi ci sta guarda questa piscina favolosa che va direttamente ciao laino come stai dove sei laino guardate che bello particolarmente questo locale san diego ad acqua fredda di maratea e che dal locale giù dove noi avremo la serata ci sono degli oblo che si vedono che si vede direttamente in piscina quindi vedono la gente quando è d'estate che si fa il bagno direttamente la gente come si ma il posto girone qua ci deve venire a tutti i costi questo è il san diego san diego abbiamo anche la luna che ci fa compagnia marina visto che posto guarda qua girone qua ci deve portare la erica la bionda erica dun a farsi un bel bagno tu e lei belli distesi già vi immagino ecco non berse il faccio alla faccia di chi ci vuole male vero teresa caribaldi buonasera alessandro quasi quasi me lo faccio un tuffo in piscina guarda guardate che bello è fantastico abbiamo l'anfiteatro giù abbiamo un castello che si è rimasto solo una parte veramente giù forte già ti immagino a te bello la erica che nuoto è tu che stai bello disteso su una panchina di questo affacciato direttamente al mare mario non esagerare guarda l'acqua abbiamo un rotondo un effetto che cos'è quella cosa l'ascendo dell'acqua è strano è tipo un cerchio in mezzo all'acqua boh anna monaco buonasera una barchetta che pesca fate fate come fosse a casa vostra antonella buonasera benvenuto in questa bella diretta antonella giuseppe caiappa buonasera giuseppe allora andiamo a vedere io sono curioso di vedere è il sud è meraviglioso vabbè che tu stai nella città eterna marina però è roma città eterna solo con la pinopinto band diretto in queste belle di location elena loquercio guarda qua la nostra terra andiamo a vedere quel cerchio la sono curioso di vedere quel cerchio quasi farà l'aperitivo ecco qua aperitivo di benvenuto e in giardino faremo il taglio torta già abbiamo parlato con la wedding della del locale e cerchio sono curioso guardate qua che cos'è che ha una spiegazione boh è stranissimo non lo so anna maria benvenuta nella mia diretta anna maria guarda quella barca qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di sorriento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si rischia rischia la voce ricominciò il suo canto vincenzo bortone qua ci vorrebbe la tua voce vincenzo una bella serenata alessandro meglio che non te lo dico che cosa solo con la vabbè alessandro non li pensare ma guarda e passa vincenzo bortone resta che bellissima location che siamo e adesso vi faccio vedere anche la sala pallidizia la pente buonasera la sala dove faremo l'evento dove si mangerà vi faccio vedere che si vedono gli obbocchi direttamente in piscina e qua si scende ecco qua i miei collaboratori già si stanno organizzando se ne abbiamo anche il pianoforte con noi eccoci qua vediamo un po se possiamo vedere dimmi dovete fumare ma catta e allora non si fungo ragazzi imma adinolfi buonasera in muccia guardate qua che bello colangelo da sasso castaldo buonasera buonasera siamo della musica quanti siete solo tre quattro cinque dieci quando lavoriamo tre tre perché quattro cinque vabbè ne eccoci qua alessandro andiamo un attimo nel nell'anfiteatro del locale e poi devo dare una mano ai ragazzi no mi licenziano licencio nell'acqua alessandro che sono rimasto impresso andiamo qua grande michele de angelis super auto buonasera michele visto che anche tu però sei stata a mare ultimamente vero no michele qua poi faranno dessert dolci buffetti dolci e invece la torta viene tagliata qua al centro di questo anfiteatro ma vi porto a vedere ancora un'altra cosa più bella la terrazza del san diego se rimanete in diretta con noi non cambiate canale e la facciamo vedere eccola qua guardate che bello la terrazza del san diego poi si può scendere anche giù qua vedi che si va direttamente sugli scogli a mare michele buonasera da ditemi voi se non è un posto da sogno guardate qua assunta bella buonasera assunta non è un posto favoloso assunta guarda qua guarda che bello mamma quanto è bella questa terrazza una terrazza che affaccia direttamente sul mare pino sarà una serata di lusso bella imma buona serata anche a te imma tutto bene meglio così siamo qui ai piedi del cristo di maratea precisamente acqua fredda di maratea guardate quanto è bella questa terrazza l'hanno fatta da poco e questo non era così bella come la vedete adesso guardate qua che bella pietra bellissimo guarda qua giovanna pietra questa messa su un tavolo di cristallo immaginate così guarda facciamo cadere giù che peccato poi giù di queste cose ne sono un miliardo e vedete un po come la zona e noi al sud già prendendo una pietra da terra riusciamo ad avere un'opera d'arte a casa nostra bene per il momento è tutto l'infinito bello veramente ma al mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura guarda il gabbiano ove la retta via era smarrita e va bene a tutti quanti voi è stato un piacere avervi nella mia diretta ci vediamo più tardi rimanete in collegamento sperando che la festeggiata abbia voglia di di farsi vedere dovete sapere che ultimamente i falsi i falsi vip sono quelli che non si vogliono far vedere più sui social perché devono fare tendenza ma sono i primi che schiattano sui social a vedere quello che fa tendenza agli altri e allora dico io ma perché non siete voi stessi perché volete fare quello che non siete ok il social oramai è per tutti se non ti ci metti tu personalmente non vai mettere a Pino Pinto che ama tanti social basta che glielo dice e non ti mette ma sicuramente ci sarà qualcuno che come ha fatto con l'ultimo con l'ultimo evento che ha costretto alla musica Paola buonasera di non pubblicare niente non eravamo noi eh però abbiamo abbiamo visto quello che hai fatto quello che sei poi non te lo fa dire ma il tuo ragazzo vestito di chiaro stonava un po' però è un ragazzo di comodo cara Carmela buonasera Paola buonasera e buonasera a tutti quanti voi Antonio Mazza buonasera io vi saluto a tutti è stato un piacere vi faccio rivedere questo panorama splendido Paola grazie Maria Teresa Pericolo qua ci volevano solo i ragazzi tuoi e me ne voglio gli per il suo cilento ma voglio gli appigliare la cilandana non me ne curo che non tene niente basta che tene la fresca fontana quando nascetto io morì la luce e mamma mia l'oscuro mi fece nascetto la ruina di la casa ciao a tutti vi voglio bene grazie per la diretta ciao